Intervista a Rosticini parte 2, Abruzzo. Come sono? Ottimi, ottimi, i calli sono una squisca. Digital? Direi che insomma questo è il 3. E questo è quello che si intrasse a fare. Emi? E' troppo buono. E' consorte? Buoni? Somebody like his heart. Chiancone? Buonissimi. Sono diversi. Sono appena cotti. No, appena cotti sono buonissimi. Rosticini parte 2, chiuso. Ciao.